Come si è potuto oppurare anche dalla stampa, noi preoccupati dalle segnalazioni di tanti cittadini che hanno gravitato intorno all'area portuale in merito all'uso massiccio di prodotti chimici nel trattamento delle granaglie e anche dei silos, dei magazzini, dell'es-consorzio ci siamo sentiti in dovere di fare un'interrogazione chiedendo se sono state eseguite nell'area tutte le analisi chimico-fisiche richieste per legge e dei carotaggi mi è stato risposto in questo caso che mi avrebbero fornito tutte le analisi dopo ma in realtà quello che mi è stato fornito dietro la mia richiesta di accesso agli atti sono delle analisi innanzitutto di superficie e poi del tutto inadeguate a quello che è richiesto dalla legge in questi casi ci sono stati segnalati l'uso di fosfine per la disinfestazione dei magazzini composto che perlomeno quelle usate all'epoca perché sono circa 30 anni che mi sembra che sia stato dismesso i silos siano stati dismessi che non vengono più usati quelle che si usavano 30 anni fa hanno dei tempi di permanenza lunghissimi si parla fino a 100 anni, logicamente se nel terreno erano presenti potete immaginare che in 30 anni piogge eccetera eccetera per percolamento possono essere scese anche fino alle falde e sicuramente sono andati in profondità quindi è bene fare dei carotaggi e non delle analisi di superficie come quelle che ci hanno fornito qui ci ritroviamo con delle analisi del 2013 che riguardano solo metalli pesanti e idrocarburi mentre l'ARPA pretende un'analisi storica dei prodotti che venivano stipati nel luogo che sono tutt'altra cosa quindi una perizia del 2013 che riguarda metalli pesanti e idrocarburi non garantisce quella sicurezza per tutto un altro genere di tipologie che sono considerate altamente nocive noi siamo a favore di chi lavora quindi delle imprese che qua hanno investito già dei soldi però siamo anche per il rispetto della legge e la tutela soprattutto della salute dei cittadini quindi torneremo a chiedere le analisi specifiche sperando che siano state fatte e che sia tutto a posto quindi va bene